Con i numeri che continuano a calare è possibile concentrarsi sempre di più sulla campagna di vaccinazione, grazie alla quale nella seconda metà di giugno l'Italia potrebbe ritrovarsi in gran parte in zona bianca. Vaccini anche per i giovanissimi che potranno così poi tornare a scuola in massima sicurezza. Molte regioni spingono anche per le vaccinazioni durante le vacanze, scavalcando le indicazioni del commissario figliuolo con accordi bilaterali. Il certificato interno europeo all'esame dell'Europarlamento che deve cercare di appianare le divergenze tra gli stati membri in merito alla competenza su quarantena e test gratuiti. Si cerca di raggiungere un'intesa in vista del Consiglio europeo di lunedì e martedì prossimi. Il costo dell'operazione è di 45 milioni di euro. Via libera intanto dalla UE all'ingresso di viaggiatori da paesi terzi immunizzati da uno dei quattro vaccini anti covid autorizzati dall'EMA. È in corso la riunione del Consiglio dei Ministri per il via libera al decreto sostegni bis. Il governo pronto a stanziare 15,4 miliardi di euro a fondo perduto. Secondo la bozza dovrebbero raddoppiare i fondi stanziati per il turismo. Tra i 77 articoli in discussione anche quello che assegna 100 milioni ad Alitalia. A 100 milioni aumentano anche i sostegni per le attività chiuse per almeno quattro mesi. Previste anche agevolazioni per tari e bollette elettriche. Dimissioni del Presidente del Copa Sirvolpi e del Senatore Arrigoni, l'altro componente leghista del Comitato parlamentare di controllo sui servizi, al centro di un'infuocata polemica. Fratelli d'Italia ne rivendica infatti la Presidenza aspettante per legge all'opposizione. Salvini chiede ora le dimissioni di tutti gli altri componenti del Copa Sir e la nomina di un altro comitato. La svolta resa possibile anche dalla netta presa di posizione del Movimento 5 Stelle e del PD. La Ministra dell'Interno Lamorgese e la Commissaria UE per gli affari interni Johnson tornano dopo un anno in Tunisia per affrontare l'irrisolto problema dei migranti irregolari. L'Unione è pronta a sostenere economicamente il paese africano per ottenere un controllo maggiore delle frontiere marittime, ma sottolinea la Commissaria per affrontare l'emergenza sulla ricollocazione dei migranti ci saranno obblighi per gli stati. Cessati per tutta la notte sono ripresi i lanci di razzi dalla striscia di Gaza verso le città israeliane. In parallelo aerei israeliani si intensifica la pressione della diplomazia internazionale per una tregua. Hamas annuncia alla CNN un cessato in fuoco imminente forse già in 24 ore. Il presidente americano Biden ha chiesto esplicitamente al Premier Netanyahu una significativa de-escalation immediata per la risoluzione del conflitto. La Juventus batte 2-1 l'Atalanta e conquista la sua quattordicesima Coppa Italia per Pirlo, secondo trofeo in una stagione ritenuta deludente e ora potrebbe anche essere confermato indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions. Sorride anche Gigi Buffon che lascerà i bianconeri ma non il calcio sognando anche il sesso mondiale. Una buona giornata dal telegiornale della Sette. Cominciamo dunque dal capitolo vaccini in un quadro che lo ripetiamo ormai almeno da qualche settimana va delineandosi con una curva epidemiologica che ci dà possibilità di aumentare lo spazio per le nostre libertà ai nostri spostamenti. Dunque tutto legato comunque alla disposizione, alla disponibilità di nuove dosi. In questo senso l'Unione Europea ha stigato un nuovo contratto per il prossimo biennio dal 2021 al 2023 con Pfizer. 1,8 milioni di dosi per l'Unione Europea sul nostro territorio. Non c'è più problema delle forniture a singhiozzo quanto piuttosto alcuni dubbi operativi che riguardano soprattutto la possibilità di garantire ai turisti una somministrazione nei luoghi di vacanza e poi c'è strategica l'accelerazione sui più giovani. Seconda dose anche nei luoghi di vacanza e immunizzazioni per gli under 16. I due nuovi temi della campagna vaccinale nel nostro paese puntano sull'ulteriore allargamento della platea dei beneficiari rispetto alle milioni di dosi che arriveranno in Italia nelle prossime settimane fino all'autunno e oltre. A giugno dovrebbero arrivare 20 milioni di fiali, ha confermato ieri il Ministro della Salute e Speranza che ha ricordato l'importanza di una data, il 28 maggio, il giorno in cui l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del preparato Pfizer anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Un elemento importante per la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico ha ricordato oggi il sottosegretario Sileri che ha parlato anche dell'altra proposta arrivata in questi giorni da alcune regioni al governo, consentire le vaccinazioni anche per chi è in vacanza fuori dalla propria regione, persino per i turisti, ha proposto il governatore Veneto Zaia, incassando però la contrarietà del commissario straordinario Figliuolo che ha ricordato le complessità di un'operazione che prevederebbe un'eguale velocità tra regioni oltre che un registro unico per far comunicare le diverse sanità locali. Se si ha la potenzialità per poterlo fare è bene farlo, dobbiamo rendere la vaccinazione semplice, ha detto Sileri. Al momento il numero delle persone immunizzate, chi ha fatto cioè prima dose, il richiamo supera i 9 milioni e 200 mila, quasi 29 milioni in totale la cifra delle somministrazioni, ma secondo la fondazione Gimbe sono 4 milioni e mezzo gli over 60 che non hanno ancora ricevuto la propria dose. Gimbe sottolinea però che proprio l'avanzamento della campagna vaccinale sta contribuendo in maniera drastica al raffreddamento della curva della pandemia. In sei settimane sono calati del 60% i ricoveri ospedalieri e del 55% quelli in terapia intensiva. Miglioramenti evidenti anche leggendo il bollettino quotidiano sui dati del Covid in Italia. Ieri 5.500 nuovi contagi con l'indice di positività che resta inferiore al 2%, cala ma resta drammatico il numero dei decessi. Ieri 149 mentre diminuisce ancora la pressione sulle strutture sanitarie. Dicevamo spazi maggiori di libertà, possibilità di spostarsi anche se peraltro proprio oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato come comunque resta rischioso avventurarsi in viaggi internazionali pur in questo contesto migliorato di contagi in diminuzione. Come ci si muoverà? Avete sentito più volte a più riprese parlare del Green Pass che riguarda gli spostamenti dei turisti che arrivano in Italia, i nostri spostamenti, la partecipazione a determinati eventi in pubblico ma poi soprattutto la circolazione all'interno dell'Unione Europea. La sensazione è che diversi nodi verranno sciolti, quello degli investimenti, quello della privacy ma anche le regole comuni nel Consiglio della settimana prossima a livello di Unione Europea. Le vacanze estive sono ormai alle porte. Le vaccinazioni anti-Covid dovrebbero permettere ai cittadini europei di trascorrerle in maggiore libertà. Parola chiave Digital Green Certificate, certificato digitale verde. Ipotizzato dal Premier Mario Draghi per il 15 maggio, tale documento permetterà agli italiani di spostarsi tra regioni che si trovino in fascia rossa o arancione, partecipare a feste di nozze, concerti e, quando riapriranno, di entrare in discoteca. Validità ha previsto a nove mesi, un anno per gli immunizzati. La certificazione attesta che si è stati vaccinati, si è guariti dal Covid-19 o si è stati sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore che precedono la partenza. Più complessa la situazione del Green Pass europeo, perché un'intesa tra gli Stati membri ancora non c'è, nonostante il tempo stringa. E sebbene il costo dell'operazione sia di soli 45 milioni di euro, le divergenze politiche si concentrano soprattutto su due punti, la quarantena e i test gratuiti. Si cerca un accordo entro questo fine settimana in vista del Consiglio europeo di lunedì e martedì prossimi. La proposta di revoca della possibilità di ciascuno Stato di imporre una quarantena anche ai soggetti in possesso del Digital Green Certificate viene bollata come irricevibile da parte di diversi Stati membri che, nelle ultime ore, tramite i loro diplomatici a Bruxelles, hanno cercato di difendere la competenza statale in materia sanitaria e di gestione delle frontiere. Non piace neppure la richiesta avanzata dagli eurodeputati e mal tollerata da Stati come l'Olanda di mettere a disposizione di chi viaggia tamponi anti-Covid gratuiti. Per trovare la copertura, gli eurodeputati propongono di utilizzare i finanziamenti europei come lo strumento di aiuto di emergenza. Al momento, dunque, le divisioni tra istituzioni comunitarie bloccano ogni possibile passo avanti. Oggi, la ripresa dei negoziati potrebbe smuovere l'impasse. Ieri, intanto, i diplomatici dei 27 hanno dato il via libera all'ingresso di viaggiatori provenienti da paesi terzi che abbiano ricevuto uno dei quattro vaccini anti-Covid autorizzati dall'EMA. Il rischio è che, paradossalmente, si conceda maggiore libertà di spostamento ai cittadini estracomunitari rispetto a quelli dell'Unione Europea. Poi, naturalmente, c'è il capitolo che riguarda il sostegno e i ristori, tutte quelle attività che hanno avuto perdite importanti. Ci sono molti settori che devono, in qualche modo, ancora essere rifinanziati e aiutati per uscire dalla crisi. Uno scudo, un nuovo scudo alla crisi, fornito proprio dal decreto sostegno Ibis. Oggi è la giornata di esame al Consiglio dei Ministri. Sono tanti soldi, ma soprattutto un pacchetto di misure importanti, come spesso capita, proprio anche all'ultimo. Nella giornata di oggi arrivano dei provvedimenti che entrano in extremis, altri che spariscono, per cercare di capire quali sono i settori su cui intervenire e quali invece possono attendere. Da una parte ci sono i comuni, senza dubbio, ci sono anche le imprese, tutto il capitolo occupazione che in qualche modo deve ricevere nuovo ossigeno dopo mesi particolarmente difficili. E poi ci sono anche le famiglie, le spese da sostenere. Anche da questo punto di vista bisogna invertire la tendenza con una nuova misura importante, dicevamo oggi all'esame del Consiglio dei Ministri. Cerchiamo di vedere se il servizio è pronto e se possiamo andare a capire che cosa è successo nella giornata di oggi. Oltre 35 miliardi di euro da impiegare in aiuti e incentivi a imprese, lavoratori e famiglie e 100 articoli con le misure necessarie per uscire dall'emergenza. E' questo il corpus del decreto sostegni bis pensato dal Governo per tamponare l'impatto negativo che la pandemia ha avuto sul mondo produttivo e nello stesso tempo sostenerlo nella ripartenza. Tante le misure previste che vanno dai ristori a fondo perduto alle scadenze fiscali e contributive per le imprese, professionisti e partite IVA, fino a nuovi strumenti per incentivare l'occupazione e nuove risorse per la sanità. Agli aiuti a fondo perduto va una fetta consistente dello stanziamento. Sarebbero circa 15 miliardi e mezzo di euro per le aziende, le partite IVA e i professionisti. E' prevista una doppia via di indennizzo in base al calo del fatturato. Arriverà in modo automatico quello calcolato sulle perdite di almeno il 30% del fatturato tra il 2019 e il 2020 e poi ci sarà un'integrazione su esplicita richiesta per le chiusure dei tre mesi dell'anno. Accanto al criterio del fatturato però potrebbe debutare anche quello dell'utile che allungherebbe però i tempi di erogazione degli aiuti. Previsti anche tagli ai costi fissi sostenuti dalle imprese in perdita, torna il credito d'imposta del 60% sugli affitti commerciali e delle aziende, taglio di un altro mese sulle bollette elettriche e risorse ai comuni per ridurre la Tari. Nuovo stop per altri due mesi poi per le cartelle esattoriali. Al pacchetto lavoro e occupazione sono poi dedicate importanti misure necessarie in vista della fine del blocco dei licenziamenti. Le aziende avranno a disposizione vari tipi di contratto. Con quello di rieoccupazione si prevedono sgravi contributivi del 100% per i datori che assumono un disoccupato dopo un periodo di prova di sei mesi. Quello di espansione permetterà una staffetta generazionale in pratica si favorisce un prepensionamento dei lavoratori occupati nelle aziende con almeno 100 dipendenti che sono ancora 5 anni dalla pensione. Largo utilizzo poi ha anche dei contratti di solidarietà per le aziende con una perdita del 30% di fatturato. Sarà possibile abbassare al 70% lo stipendio dei lavoratori con l'impegno del datore di garantire i livelli occupazionali e rinunciare dunque ai licenziamenti. Per il settore del turismo uno dei più colpiti dovrebbero arrivare 3,3 miliardi di euro, praticamente il doppio del previsto. Mentre indennità di 1.600 euro andranno ai lavoratori degli stabilimenti ternali, dello spettacolo e del turismo. In arrivo anche altri 4 mesi di reddito di emergenze e aiuti ai comuni per erogare i buoni pasto e affitto per le famiglie. In difficoltà, tra le altre misure, anche fondi per rafforzare i servizi sanitari. Ed ecco, pochi istanti fa è arrivato l'ok da parte del Consiglio dei Ministri il via libera al DL sostegni da 40 miliardi. Naturalmente ci sarà modo poi di entrare ancora una volta nelle pieghe delle misure, però oggi è una giornata molto importante anche su un altro fronte che abbiamo tenuto monitorato, quello della presidenza del Copasir. Forse la giornata decisiva quella presidenza l'aveva rivendicata la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, già poche ore dopo l'insediamento del Premier Draghi perché le spetta secondo la legge come unica esponente dell'opposizione, dunque spetta un esponente di Fratelli d'Italia. Oggi ci sono stati gli annunci di Movimento 5 Stelle e di PD e poi la mossa della Lega. Vediamo. Prima, oltre un mese fa, si era limitato ad invitare tutti i membri a dimettersi per ripartire da zero. Ora arriva la notizia delle sue dimissioni dalla presidenza del Copasir. I leghista Volpi, insieme al senatore Paolo Arrigoni, apre così stamattina il coperchio della pentola del Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi di sicurezza, su cui da qualche settimana si era incagliata la polemica tra una Lega che, sebbene non più all'opposizione, ne manteneva la presidenza, rivendicata invece da Fratelli d'Italia, partito rimasto fuori dalla maggioranza. Le sue dimissioni, quelle di Volpi, arrivano un'oretta dopo che il suo segretario Salvini, dopo aver fatto catenaccio, aveva sbloccato i giochi, annunciando già oggi pomeriggio, se tutti i partiti fossero d'accordo, gli uomini della Lega sarebbero pronti a dimettersi per rifondare questo organismo. E anche dopo che Carlo Sibiglia, sottosegretario all'interno dei 5 Stelle, aveva annunciato la rinuncia del Movimento, arrivata insieme a quella del Dem Borghi. Finché la presidenza del Copasir non andrà all'opposizione, aveva detto che il Movimento non parteciperà alle riunioni. È una questione di garanzia dei diritti della minoranza e di equilibrio dei poteri. Le istituzioni non sono lo zerbino dei partiti, con tanto di bollino di qualità costituzionale, in questo caso arrivato da Conte. La presidenza del Copasir spetta l'opposizione, così prevede la legge del 2007 per garantire i partiti della minoranza e l'equilibrio dei poteri e delle funzioni di controllo. Sul Copasir si è aperto insomma il gioco delle schiarite a favore di Fratelli d'Italia, improvvisamente ma non inaspettatamente. La nomina della Belloni alla guida dei servizi segreti, che in teoria sarebbe dovuto arrivare sentito il parere di un Copasir guidato da un rappresentante dell'opposizione a garanzia del Parlamento e non della maggioranza, ma anche verosimilmente grazie a un accordo tra Lega e Fratelli d'Italia finora in attrito. Questione di equilibri, di contrapesi, di conflitti tra teoria costituzionale e pratica politica, nata dopo la formazione di un Draghi capace di rompere gli schemi in chiave unitaria. Con la Lega, che ora pretende l'immediata integrale applicazione della legge 124 del 2007, che prevede l'assegnazione all'opposizione di cinque componenti su dieci, tra cui poter scegliere l'eventuale presidente. E poi c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Dalla giornata di ieri se ne parla in altri termini, considerando anche quelle che sono state le parole del Presidente in carica. Mattarella, che si è detto stanco, ha detto tra qualche mese potrò riposare. La volontà chiara è quella di sgomberare il campo da tutta una serie di speculazioni che riguardano anche il pressing di alcuni partiti per un secondo mandato. Sergio Mattarella ricorda Massimo D'Antona, gius lavorista ucciso dalle nuove Brigate Rosse 12 anni fa e guarda all'orizzonte delle riforme. Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e al tempo stesso di garantire inclusione e coesione, resta un traguardo verso il quale orientare l'azione delle istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini, avverte il Capo dello Stato. Parole che insistono sulle riforme, nodo da affrontare per la maggioranza sulla strada del Recovery Plan, partita dell'ultimo tratto del settennato di Sergio Mattarella, che non avrà un bis. Il Presidente ieri si è chiamato ancora, perentoriamente, fuori dalla corsa al colle tra otto mesi. Appuntamento che può segnare alla legislatura il destino del governo e condiziona le forze politiche. Sul Presidente della Repubblica era cresciuto il pressing per un nuovo mandato, con prospettiva limitata, come fu chiesto per superare lo stallo a Giorgio Napolitano. Un nuovo mandato per far proseguire il governo di Mario Draghi, che molti vorrebbero sul colle, fino alla scadenza naturale della legislatura. Ma Mattarella ha detto no, sottolineando i motivi personali della decisione. Tra otto mesi il mio mandato di Presidente termina, io sono vecchio, potrò riposarmi. Per il Quirinale occorrerà trovare un nuovo inquilino, che ha già esplicitato la sua preferenza a Matteo Salvini. Non abbiamo nostri candidati, dice il leader della Lega, ma se il Presidente Draghi si volesse proporre, avrebbe il nostro convinto sostegno. Ora non mi sembra rispettoso, però, mettere una scadenza al suo lavoro al governo. Perché l'elezione di Draghi, candidato forte sul piano interno e autorevole su quello internazionale, segnerebbe la fine dell'esecutivo di larghissime intese, con il probabile ritorno alle urne, agognato da Salvini, che teme il logoramento con la concorrenza dall'opposizione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che non a caso su Draghi frena. Non hanno fretta a ritornare al voto la prossima primavera, PD e 5 Stelle, prudentissimi dopo le dichiarazioni di Mattarella. Febbraio è lontano, il governo sta lavorando, commenta il segretario del PD Enrico Letta. Dibattito in anticipo, ora bisogna concentrarsi sulle riforme, sottolinea il ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Federico Dincà. Una giornata importante anche sulla fronte dell'immigrazione. Da una parte ancora le immagini e le notizie forti che arrivano da Ceuta e dunque quell'ondata impressionante in poco tempo di migranti che con ogni mezzo hanno cercato di lasciarsi alle spalle il Marocco, la linea dura di Madrid e poi la mancata condivisione europea. Anche di questo parlerà la nostra ministra degli interni, la Morgese, di nuovo in Tunisia con numeri alla mano, un'ondata che arriva ancora una volta anche dal Mediterraneo nel solo mese di maggio, che ancora deve terminare, sono già più di 3.500 migranti arrivati sulle nostre coste. E' la seconda visita a Tunisi dopo quella di nove mesi fa. Il ministro dell'interno Luciana Morgese è arrivata a Tunisi insieme alla commissaria UE e agli affari interni Ilvar Johansson, entrambe a colloquio con il presidente della Repubblica tunisina, Kai Syed, e con il capo del governo, Icem Mekichi. La visita odierna serve per gettare le basi di un accordo complessivo di partenariato strategico tra l'Unione Europea e la Tunisia, ha finalizzato a diversi obiettivi, tra cui in primis il controllo dei flussi migratori irregolari e per aiutare con una serie di aiuti economici il paese nordafricano dopo la profonda crisi di questi mesi. Proponiamo l'obbligo di intervento agli stati membri, dice la commissaria Johansson. La nostra proposta è per un meccanismo di solidarietà assolutamente obbligatorio per cui i paesi UE, a seconda della loro popolazione e forza economica, si vedranno attribuite un certo numero di migranti con alcuni meccanismi di correzione. Quando verrà approvato il patto sulla migrazione e sull'asilo avremo una UE forte che aiuterà l'Italia, dobbiamo lavorare anche con i nostri partner per evitare che i migranti partano e per aprire percorsi legali di migrazione. L'obiettivo è di non lasciare solo l'Italia sul fronte dei migranti, sistema di redistribuzione volontaria e provvisorio tra i paesi dell'Unione Europea, la riforma delle politiche migratorie con i ricollocamenti obbligatori è essenziale, mentre per governare il flusso irregolare dei migranti si continua a cercare la possibilità di un accordo anche con la Libia, una nuova missione per raggiungere un'intesa con il nuovo governo libico, forse già la prossima settimana. Sul tema continua il confronto politico all'interno della maggioranza, il segretario del PD Letta chiede di ampliare il mandato della missione europea Irini dalle acque del Mediterraneo per riprendere i salvataggi in mare, per evitare che si verifichi una situazione come quella di Ceuta dal Marocco verso la Spagna per cercare di ridurre gli ingenti sbarchi che ci sono stati a Lampedusa. Dopo aver lambito la costa della Sicilia a largo di Palermo si dirige verso Pozzallo la nave SIAE4 dell'omonima ONG tedesca. Da giorni in mare aperto dopo aver soccorso 414 migranti in 5 distinte operazioni. Adesso la situazione invece in Medio Oriente siamo all'undicesimo giorno di conflitto con notate che prevedono ancora interrotti ma poi anche qualche cosa che ci avvicina a livello di dichiarazioni di sensazione di possibile tregua ci avvicina a un cessato il fuoco che naturalmente va gestito anche dal punto di vista diplomatico e da questo punto di vista sono trasversali e diverse le strade che dovrebbero portare a una prima tregua. Otto ore di pausa insolita, anzitutto per le comunità israeliane adiacenti la striscia di Gaza, ore notturne segnate comunque da ulteriori attacchi aerei dell'ADF contro specifici obiettivi di Hamas. Hanno provocato la morte di altre tre persone tra cui forse alcuni ufficiali dell'ala militare ma non il capo Mohamed Deif già scampato a due tentativi di eliminazione. E dal suo comando è arrivato l'ordine dopo l'alba di riprendere i lanci di razzi verso il sud di Israele da Ashkelon al Negev e contro le comunità che sorgono attorno alla striscia. Zal, la forza armata israeliana, ha risposto ma con minore intensità di fuoco nel mirino ancora nelle ultime ore la cosiddetta metropolitana di Gaza, decine di chilometri di tunnel sotterranei in cui l'organizzazione integralista palestinese ha investito negli ultimi sette anni milioni di dollari, un dedalo di gallerie usate per azioni militari, infiltrazioni in suolo ebraico, trasporto e lancio di missili, distrutta a riguardo anche una batteria di lanciatori nell'area di Caniunis. Per ora nessuna segnalazione di vittime. La sfida insomma è e resta militare. Gli arsenali di entrambi sono ancora pieni di munizioni eppure si parla sempre più intensamente di un possibile cessato il fuoco, mediato in questi giorni dall'Egitto come avvenuto spesso in passato. Le armi potrebbero tacere già da stasera, più probabilmente da domani, venerdì giorno di preghiera per i musulmani, come Hamas ha confermato alla CNN, ma Israele non si fida, teme che un accordo possa essere inficiato da conflitti interni nel fronte palestinese che a sua volta dichiara di essere in grado di allungare la guerra pur ammettendo già dal 13 maggio scorso di aver subito danni ingenti alle strutture militari e lungo tutta la striscia. Conflitto che il mondo comunque vuole si fermi. Ieri la richiesta esplicita di Joe Biden a Benjamin Netanyahu di porre fine alla crisi e la risposta del premier israeliano che per ora va avanti con le operazioni pianificate contro Hamas e le fazioni palestinesi presenti nella striscia. In Israele è giunto oggi il ministro degli esseri tedesco Heiko Maas per incontri con entrambe le parti. Ieri il presidente palestinese Abu Mazen aveva esplicitamente attaccato Israele per la guerra in corso chiedendo di giudicare lo stato ebraico per crimini contro l'umanità. Negli Stati Uniti tornano in primo piano ancora le parole mai troppo pensate e pesate da parte dell'ex presidente americano Donald Trump inseguito dalle inchieste penali che riguardano la sua organizzazione. Ha atteso un attimo ma poi è passato al contrattacco. Ancora guai giudiziari per l'ex presidente degli Stati Uniti e ancora la stessa reazione. Vogliono silenziare e cancellare i milioni di voti che ho ricevuto perché non vogliono che corra di nuovo. È stato questo il commento di Trump non appena la procuratrice generale dello stato di New York Leticia James con una notifica ha informato i vertici della Trump Organization che le indagini in corso da tempo non si limitano più alla sfera civile ma hanno preso una piega penale. I reati ipotizzati sono frode bancaria e frode fiscale. Il sospetto infatti è che la holding di famiglia Trump e il proprietario anche se una volta arrivato alla Casa Bianca nel 2017 ha ceduto la gestione della società ai figli abbia per anni falsificato i propri rendiconti finanziari da una parte gonfiando gli introiti delle sue proprietà per ottenere prestiti e coperture assicurative a condizioni agevolate dall'altra dichiarando un valore degli immobili più basso ed usufruire così di sconti fiscali. La società fondata nel 1923 dal padre possiede oggi immobili residenziali, hotel, resort, grattacieli e campi da golf in tutto il mondo oltre a ettari di proprietà immobiliare in tutta Manhattan. È probabile che a dare un'accelerazione al lavoro degli investigatori sia stata la decisione della Corte Suprema che dopo una lunga battaglia legale ha obbligato la Trump Organization a consegnare alla procura di Manhattan le dichiarazioni fiscali degli ultimi otto anni, quelle che anche il congresso aveva chiesto e che Trump si era sempre rifiutato di mettere a disposizione quando era in carica. L'ex presidente ha sempre negato ogni accusa ed è scritto l'indagine sulle sue finanze da parte del procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance, un democratico da cui sono partite tutte le indagini come una continuazione della più grande caccia alle streghe politica nella storia del paese. Insomma dopo un addio alla Casa Bianca carico di tensione e un impeachment che è riuscito ad evitare per le accuse di aver fomentato l'assalto al Campidoglio lo scorso gennaio, questa volta in ballo non c'è solo il futuro politico dei Trump e dei suoi figli perché se la vicenda giudiziaria si concludesse con un processo penale l'ex presidente su cui peraltro pendono anche altre indagini fra cui quella del procuratore federale distrettuale della Georgia rischierebbe la galera. Torniamo in Italia, ancora la bufera sul CSM, la questione dei verbali e le quattro ore di interrogatorio del PM di Milano Storari indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, quattro ore a Brescia ascoltato, vediamo di capire se che cosa si muove rispetto anche le carte consegnate dal da Storari stesso. La fase più delicata dell'inchiesta sui verbali di Amara, quelli dell'ultimo terremoto nella magistratura riguarda i PM milanesi e ora è tutta nelle mani del procuratore capo di Brescia Francesco Prete che ha competenza sui colleghi di Milano. Ieri per quattro ore ha interrogato il PM Paolo Storari accusato di aver rivelato atti coperti da segreto, quei verbali in cui l'ex avvocato esterno dell'Emi parla della presunta loggia massonica Ungheria in grado di condizionare le nomine in magistratura. Li aveva consegnati ad aprile scorso all'allora consigliere del CSM Pier Camillo Davigo una forma di autototela e sempre stata la versione di Storari ribadita anche ieri dopo aver sollecitato per mesi nuove iscrizioni nel registro degli indagati alla luce di quelle clamorose dichiarazioni ai suoi superiori che invece a suo dire in quella prima fase preferivano aspettare. Il compito del procuratore capo di Brescia ora è quello di valutare se quella consegna dei verbali è avvenuta a brevi manu nella casa milanese di Davigo invece di averli inviati al CSM attraverso procedura protocollata rappresenta o meno un illecito insieme ad altri elementi importanti tutti ancora da accertare. Dopo l'interrogatorio l'avvocato di Storari Paolo della Sala senza entrare nel merito delle dichiarazioni rese dal suo assistito ha specificato basandosi su fonti aperte a proposito di quello che Davigo aveva anche detto in tv che il magistrato ora in pensione si sarebbe immediatamente assunto la responsabilità della consegna di quei verbali informando il comitato di presidenza. C'è anche un tema di giudizio etico che va inquadrato e compreso ha detto l'avvocato ma agli atti ieri è finito anche il carteggio tra Storari e i suoi superiori almeno una decina di mail inviate dal pubblico ministero all'aggiunto Laura Pedio in cui si sollecitavano nuove indagini alla luce delle clamorose dichiarazioni di Amara. Per questo nei prossimi giorni potrebbero essere sentiti sempre a Brescia come persone informate sui fatti sia l'aggiunto Pedio sia il procuratore capo di Milano Francesco Greco. Torniamo a parlare dell'occupazione, un mondo che sicuramente ha bisogno di nuove risorse segnato da una serie di grandi e piccole vertenze industriali, abbiamo parlato questa settimana dell'Exal Italia, dell'Embraco, di Erita, ma poi ci sono anche le piccole realtà come quelle che vi raccontiamo tra poco alle porte di Milano, una cooperativa di lavoratori, sono autisti, sono addetti al montaggio di mobili che denunciano una serie di condizioni complicate e poco dignitose, turni di lavoro molto lunghi, paghe molto basse. Voto sofferenza! Voto sofferenza! La sofferenza del loro mondo è una paga base di 47 euro lordi al giorno per lavorare 12, anche 13 ore a trasportare e montare mobili nelle case della gente. Sono in sciopero da quattro giorni davanti al magazzino del colosso di arredamento low cost a San Giuliano, alle porte di Milano. Sono i lavoratori della cooperativa TSL, i riders dei mobili, quasi tutti stranieri. Ibrahim è egiziano, ha 38 anni, un figlio, una moglie malata che non lavora. A me piace quello che faccio, ci dice, ma voglio rispetto. Noi facciamo tanto lavoro, tanta responsabilità e il cliente sembra ha ragione. Noi andiamo dalla casa del cliente con tanto stress perché se noi facciamo danni della casa del cliente baghiamo noi. Non è la dita, i danni questi baghiamo noi, le molte baghiamo noi. Tutti i ragazzi hanno la voglia di lavorare. Noi alziamo alla 5 di mattina, siamo a piedi qua, alla 6 e mezza, alla 7. La voglia di lavorare abbiamo, però lavoriamo con il modo giusto, con il contratto giusto. Hanno aderito in circa 130 su 250 lavoratori e non hanno intenzione di mollare. Oggi una delegazione è stata ricevuta dal prefetto, vogliono un contratto, quello della logistica, adeguato al lavoro che svolgono. Un problema, se vogliamo, anche di sicurezza del lavoro. Trasportano materiale, trasportano cucine, trasportano mobili a ogni piano di ogni palazzo di Milano, spesso e volentieri senza ascensore e, cosa ancora più grave, senza che l'azienda che li ha assunti li doti di alcuna strumentazione di sostegno al sollevamento dei pesi. Il problema è che sia l'azienda TSL che la committente sono completamente sordi alle nostre richieste e alle nostre richieste di incontro. Sulla stessa cooperativa c'è un'indagine aperta dalla procura di Ivrea con le ipotesi di reato di caporalato, estorsione e maltrattamenti con l'aggravante della discriminazione razziale. Adesso, prima di fermarci per la pubblicità, vi mostriamo delle immagini che riguardano il più grande iceberg del pianeta che si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio ronne in Antartide. Ora sta galleggiando del mare di Waddle. L'iceberg è lungo circa 170 chilometri e largo 25, un'area di 4320 chilometri quadrati, leggermente più grande dell'isola spagnola di Mallorca, per darvi un'idea, ha quasi quattro volte la superficie di New York. Queste immagini del distacco, riferisce l'Agenzia Spaziale Europea, sono state riprese dai satelliti. Allora ci fermiamo, la pausa pubblicitaria e poi quella sportiva per celebrare un trofeo assegnato alla Juventus. Di nuovo insieme, seconda parte del telegiornale, dunque la finale di Coppa Italia. Il trofeo è andato per la quattordicesima volta nella storia bianconera alla Juventus. Ne ha fatto le spese un'Atalanta che ancora una volta è rimasta a mani vuote dopo una lunga cavalcata. cavalcata è un trofeo che pesa parecchio, soprattutto per due destini di due poco più che quarantenni, in momenti diversi della rispettiva carriera. Pirlo e Buffon, in servizi. Nella stagione più tribolata degli ultimi dieci anni, la Juventus riesce alla fine a portare a casa due trofei, dopo la Supercoppa, ieri sera la Coppa Italia. Pur sempre trofei, anche se arrivati nell'annata che verrà ricordata più per l'eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale e per l'interruzione della striscia di nove scudetti di fila. Coppa conquistata con merito grazie ai gol dell'ex Kuluseski e di Federico Chiesa, che hanno ridimensionato un'Atalanta attenta e vivace solo nel primo tempo, chiuso sull'uno a uno con il potente sinistro di Malinowski. Una stagione amara addolcita nel finale dalla quattordicesima Coppa Italia in Bacheca, che spinge adesso i tifosi a sperare di acciuffare un piazzamento buono per partecipare alla ricca Champions League del prossimo anno, con relativi benefici sui bilanci. Nel dopo partita Gasperini ha criticato l'arbitro per un rigore non concesso a Pessina nel primo tempo e per un fallo di quadrado prima del gol. L'Atalanta deve rimandare i propri sogni di gloria alla prossima stagione, che la vedrà per il terzo anno di fila partecipare alla Champions League. Gli stessi bergamaschi domenica prossima saranno arbitri della corsa la Champions, incrociando il Milan nell'ultimo atto del campionato. Il futuro di Pirlo passa proprio per questo obiettivo. A Bologna dovrà vincere, sperando che i rossoneri perdano. Raggiungendo l'Europa che conta il tecnico, avrebbe qualche concreta chance di rimanere sulla propria panchina. Ieri sera Pirlo ci ha scherzato su in conferenza, io mi confermerei, ha detto. Vedremo se Andrea Agnelli sarà d'accordo. Gigi Buffon ha lasciato la sua maniera da vincente, alzando il ventunesimo trofeo in bianconero, il ventiduesimo considerando la Serie B vinta. Conquistando l'ennesimo record sei Coppa Italia come Roberto Mancini, un record che va ad aggiungersi agli altri più grandi, l'imbattibilità in campionato di 974 minuti, i dieci scudetti. Poi ha pubblicato un tweet in cui ha scritto le parole che sognava di scrivere da tempo, è stata la finale perfetta, il finale perfetto. È sempre difficile dire basta giù dalla giostra, fuori dai percorsi prestabiliti che lo sport ti ha assegnato. Diego Maradona lasciò con un eccesso di passione, retorica, slogan, Ben Johnson, fuggi drogato, marcio. Van Basten con la maniconia di chi è costretto a farlo, Francesco Totti, tra lacrime, tormenti e gloria. Anche nell'addio di Buffon alla Juve non c'è solo gloria, tolgo il disturbo, ha detto sette giorni fa, una parola non scelta a caso che stava lì a dire se fosse per me, continuerei. Concetto che Buffon ha ribadito anche ieri, mi sento ancora un portiere forte, ho bisogno di battermi, ha detto, aggiungendo, ho ancora tante proposte, una di un dirigente matto. E chissà che una di queste proposte non sia arrivata da Giuseppe Murigno, che alla Roma è alla ricerca di un portiere non solo forte, ma che abbia carisma e personalità da trasmettere a giocatori più giovani. Quello di Buffon alla Juve è stato un lungo addio raccontato in due parti, il primo andò in scena due anni fa, sempre in un fiume di lacrime, destinazione Paris Saint-Germain, 12 mesi di esilio, poi il richiamo fu grande, anche il prezzo da pagare. Per tornare a vestire la maglia bianconera, Buffon accettò di non avere più il numero uno sulla schiena, di essere il vice, non più il titolare. Ma cosa volete che sia per uno che per amore di una maglia decise di giocare anche in B, lui che era appena diventato campione del mondo e per questo i tifosi giuventini lo ameranno per sempre, più che per i dieci scudetti vinti. Dovete anche rinunciare alla fascia di capitano che per tanti anni aveva portato al braccio, quella fascia che Chiellini ieri, prima della premiazione, gli ha restituito. C'era da scrivere il finale perfetto. E poi il Giro d'Italia in pieno corso, la dodicesima tappa oggi adatta alle fughe, quella di ieri invece undicesima ancora l'occasione per il colombiano Bernal per lasciare il segno alla sua prima corsa al Giro d'Italia. Di questo Giro 2021 una cosa è certa, lo sterrato piace ed ha anche un valore tecnico, volendo ci puoi costruire una vittoria di tappa di quelle che alla fine te la ricordi. Sulle strade bianche si può scattare e staccare gli avversari come sull'asfalto con una componente rischio molto più elevata perché la stabilità ovviamente non è la stessa. Un fattore che aumenta lo spettacolo e che piace alla gente. Poi c'è la polvere che soprattutto le ammiraglie alzano senza ritegno trasformando la carovana in un girone quasi dantesco. C'è chi ci vede a ragione un po' di romanticismo ma in verità la scelta di inserire tratti di sterrato deriva anche dal grande successo che hanno avuto negli ultimi anni questo tipo di corse tra i dilettanti come la famosa Eroica. Nella tappa di ieri sui 35 km di sterrato divisi in quattro settori intorno alle colline di Montalcino tra le famose vigne toscane ha dominato il 21enne svizzero Mauro Schmid che ha beffato sul traguardo Alessandro Covi. Spettacolo tanto cuore dalla maglia rosa il colombiano Egan Bernal che ha aumentato il vantaggio sugli avversari facendo la differenza sui tratti più difficili. Bernal viene dalla mountain bike è uno specialista e su questi terreni fa la differenza. All'arrivo il piccolo colombiano è rimasto con i piedi per terra e nonostante i distacchi oltre due minuti autorizzassero a qualche dichiarazione autocelebrativa si è limitato a minimizzare la situazione. Ci sono ancora tutte le grandi salite. Il giro è lungo. I tecnici lo aspettano sabato sullo Zoncolan arrivo della quattordicesima tappa dove tutto potrebbe cambiare ma lui non è preoccupato per nulla. Allora prima di chiudere ancora il nuoto italiano in evidenza gli europei di Budapest sono quattro gli argenti conquistati dagli azzurri con Gregorio Paltrinieri nelle 1500 stile libero, Rianna Castiglione nei 100 rana e poi ancora Alessandro Miresi nei 100 stile libero e Federico Burdisso nei 200 farfalla. Si aggiungono tre medaglie di bronzo con Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, Martina Carraro nei 100 rana e la staffetta 4x200 composta da Ballo, Ciampi, De Tullio e Di Cola. Con questi risultati ci fermiamo, vi ricordo come sempre l'informazione che torna alle 20, noi domani alle 13.30 e vi lascio come ogni giornata a Tagadà. Buon proseguimento a tutti voi.